Recoci insieme con Biancorrosso TV Sport e con il nostro ospite l'avvocato Giancarlo De Peppo. Prima alcune notizie, prima di tornare a parlare di mercato, volevo tornare su una bella iniziativa messa su dall'associazione HBari 2003 e volare più in alto, la Befana per tutti 2015. Qua parliamo della squadra di Bari che partecipa al campionato di basket in carrozzina che è molto sensibile ad alcune tematiche sociali del territorio. In questo caso, con la collaborazione dei commercianti di Via Fanelli, che peraltro è la via di Telebari, quindi a maggior ragione è giusto dare lustro a questa notizia, con la collaborazione dei commercianti di Via Fanelli, hanno regalato doni, hanno fatto la Befana ai ragazzi disabili. Qui vediamo alcune delle immagini, questo è accaduto praticamente a pochi passi da Telebari in Via Fanelli e qui vediamo i doni ai ragazzi disabili e ripeto c'è stata davvero la collaborazione forte da parte dei commercianti della zona, dei commercianti di Via Fanelli. Qui vediamo il presidente del secondo municipio, l'avvocato Andrea D'Amacco. E' un mio collega. E infatti si sono prodigati, a me piace molto sottolineare quando i commercianti in particolare sono protagonisti in positivo della realtà cittadina. Anche gli uomini di spettacolo, Nico Salatino abbiamo visto. E infatti l'hai visto Nico Salatino e qui vediamo questa Befana. Diamo la notizia con qualche giorno di ritardo, però tant'è, ci è sembrato doveroso, a maggior ragione perché parliamo di casa nostra, parliamo di Via Fanelli. Complimenti dunque ai promotori dell'iniziativa e a chi vi ha aderito. Torniamo insieme perché nei giorni scorsi non abbiamo avuto modo di dare un'altra notizia, di ricordare la scomparsa del maestro Gravina che è stato il maestro di tanti ragazzi baresi perché era l'allenatore, il tecnico di settore giovanile vecchio stampo. Ed era il talent scout proprio della zona del Castello. Castello, quindi davvero lo ricorderemo col professore Antonucci magari nei prossimi giorni. Io ricordo due sue frasi emblematiche. Ragazzi facciate girare la palla e l'altra quando un ragazzo si comportava male ma aveva delle qualità per stimolarlo diceva va a fare un soldato. Sì eh? Quindi davvero ci fa piacere ricordare questo personaggio questo personaggio di un calcio d'altri tempi. I detrizio, i caricola, tanti altri ragazzi sono venuti dai suoi insegnamenti. Dai suoi insegnamenti. Davvero ci sembrerà doveroso poi con il professor Antonucci la prossima settimana regalargli uno spazio, uno spazio di ricordo. C'è un'altra telefonata, pronto? Ciao Enzo, sono Gigi Dabari ci siamo incontrati qualche giorno fa in centro. Saluto anche l'avvocato Giancarlo De Pecco. Ciao. Enzo, vorrei delle vostre opinioni riguardo l'eventuale cessione di Sciaudone da idolo della scorso anno a... così ecco, a un oggetto misterioso di quest'anno un cambio poi di Berlingheri che è comunque un panchinaro a Livorno e di Schiatarella che è comunque un panchinaro alla Spezia. E inoltre vorrei un'altra opinione per quanto riguarda Caputo dopo il corteggiamento col tifoso del Catania già i rapporti con Caputo attuali con la tifoseria barese non sono dei più, ecco, rosei. Non so, voi come la vedete questa situazione? Va bene, io dico mi sbilancio io su Sciaudone e Galano il fatto che debbano partire è la sconfitta, un po' di tutti e la sconfitta anche della società Bari che non ha saputo evidentemente tutelare e tenersi due giocatori importanti ci sono stati degli errori io ho sottolineato l'altro giorno che piaccia o no lo so che purtroppo quando uno esprime delle proprie opinioni magari dà fastidio o meglio infastidisce qualcuno però devo dire la verità io credo che quei due giocatori e non solo quei due del gruppo che faceva parte del Bari della Rimonta della Grande Rimonta a mio avviso non sono stati trattati come avrebbero meritato cioè io prima ancora di come dire prendere giocatori nuovi pagarli in alcuni casi meglio di quei vecchi io ci avrei pensato due volte perché comunque alla fine nelle dinamiche di un gruppo queste cose contano queste cose pesano essere poi passati devo dire la verità dallo sannare Sciaudone addirittura minacciarlo di schiaffi mi sembra una sconfitta da parte della tifoseria barese dobbiamo avere più equilibrio ragazzi non è possibile passare da un eccesso all'altro noi purtroppo passiamo da un eccesso all'altro lo scorso anno erano degli dei quest'anno sono trattati come dei cialtroni tant'è che cambiano aria per me non è bello il segnale che si dà in questi casi dalla piazza barese non so se sei d'accordo Giancarlo e poi ti chiedo anche sulla questione di Caputo che ne pensi? Ma io su Galano e Sciaudone penso che comunque ci sono delle dinamiche anche involontarie concordo con te sul fatto dell'equilibrio io lo dico anche all'interno della squadra all'interno del campionato delle partite con equilibrio e continuità si va avanti con le depressioni e le esaltazioni non si va da nessuna parte poi Galano e Sciaudone sono come tanti altri giocatori anche in altre squadre anche non voglio dire prigionieri ma comunque le loro prestazioni il diritto alle loro prestazioni sportive sono anche un po' come dire determinate dal contratto che hanno tutti e due hanno un contratto fino al 30 giugno 2016 sembrava lo dovessero rinnovare negli ultimi tempi questo rinnovo non è arrivato in più hanno delle qualità tecniche tattiche indiscusse ma che poco poco si armonizzano con quelli che sono quelli che sono i temi tattici dettati dal nuovo allegatore però non è normale faccio un esempio che Ligi prende più di Galano facciamo un esempio e nella dinamica di un gruppo chi sei tu Ligi per prendere più di Galano mi faccio mi faccio così una domanda lo banalizzo il concetto ecco perché credo che questa cosa fosse da prendere con le pinze già da quest'estate invece a mio avviso si è un po' trascinata con gli effetti devastanti che ha avuto a mio avviso sul rendimento o sulla responsabilità scusami tu Ligi cosa hai fatto a Bari per prendere più di Galano è assurdo è clamoroso cioè se io fossi Galano sarei molto incazzato tanto per essere ma non ora ma sarei incazzato incazzato scusami io questo particolare non lo conoscevo prima che lo dicessi tu un attimo fa ma non bisogna arrivare al punto in cui Galano gioca male al momento del ritiro Galano si incavola e lo era già e lo era già il mal di pancia di Galano risale al ritiro precampionato diciamo le cose come stanno poi che piaccia o no c'è un amico in linea pronto ciao Enzo sono Paolo buonasera ciao ciao saluto l'avvocato De Peppo salve Paolo allora Enzo prima di tutto vorrei fare ricordogliate alla famiglia Gravina che sei mister della nostra città e poi un'altra cosa sul cittù caputo noi vediamo a Pari cioè vanno i calciatori che hanno preso come noi le squalifiche vedi quello che è andato a Catania adesso Belmonte e Compagnia Pella nessuno fa niente per niente però noi se la classifica del Bar in questo momento non era questa io vorrei vedere se a Caputo contestavano grazie l'ho detto anche l'altro giorno per carità la fascia di Capitano no assurdo non sta bene la fascia di Capitano a Caputo ma non lo dobbiamo pensare adesso ma l'ho detto l'inizio lo sai come la pensi l'ho detto l'inizio così come io ho trovato giorni fa un tifoso che mi ha detto eh avvocato ma Caputo non la mette dentro ma voi vi ricordate per esempio Spinesi quanti palloni da gol voleva per poi fare gol l'importante è che l'attaccante si debba trovare a tu per tu ci sono i periodi in cui anche quando la prende con la suola va dentro periodi in cui tira bene senti c'è una notizia che mi ha stampato Cristiano Siciliani Masello chiede scusa a Bergamo ora giudicatemi in campo dice in un'intervista rilasciata all'eco di Bergamo sono stati anni difficili sanno tutti cosa ho attraversato poverino ha attraversato lui un brutto periodo ho scoperto una vita nuova diverso ripensate i miei errori li ho capiti e penso che adesso potrà far vedere chi sono per davvero mi sono rialzato sento rabbia forza e determinazione ma c'è una cosa a cui tengo più di tutte prima di parlare del resto le mie scusi a Bergamo all'Atalanta per Cassi a Marino e i miei compagni alla gente ha sbagliato indirizzo ha sbagliato indirizzo ha sbagliato le scuse a Bari a Bari e a chi altro di Bari vabbè diciamo poi dice di aver accettato un percorso spirituale fuori dal calcio con Don Resmini denunciare non è facile tante le porte che trovi chiuse e io non me la sono sentita questo dice quello che ho sbagliato ha messo la mia coscienza è tranquilla è pulita tu prima mi chiedevi di Masiello ti dico brevemente non mi metti in difficoltà ma bisogna distinguere due aspetti quello morale e quello giudiziario normativo allora quello giudiziario normativo c'è ci sono i processi della giustizia ordinaria che sono andati come sono andati anche perché tutti dicono operatori e non che le leggi per contrastare la frode sportiva sono sono con delle pene a dir poco risibili dal punto di vista calcistico ci sono delle pene tra virgolette per chi commette illecito ricordiamo che l'illecito è anche il tentativo il solo tentativo di alterare un risultato di una gara però ci sono delle norme che anche se applicate hanno un massimo e hanno un contemperamento quando il soggetto collabora con la giustizia sportiva in questo caso Andrea Masiello volenti o nolenti ha collaborato con la giustizia sportiva e si è visto combinare una squalifica mi sembra di 24 mesi 26 mesi dal punto di vista sportivo a quello morale non so neanche se gli darei una seconda chance però purtroppo finché ci sono quelle benedette norme sia a livello federale che a livello di giustizia ordinaria dobbiamo tra virgolette accontentarci delle pene che ha subito Masiello c'è un'altra telefonata pronto? pronto? eccoci ciao sì ciao niente sono Enzo volevo ciao per quanto riguarda il discorso che appunto che francamente io trovo assurdo il comportamento di molti pseudo perché chiamiamoli con il vero mettiamo il vero aggettivo pseudo tifoso del BAC per quanto riguarda io poi vedo in contrapposizione che si osanna il ritorno di Barreto ma scusate Barreto non era addirittura forse molto più integrante integrato in quello spogliatoio stesso di cui ora si accusa caputo che allora 19enne e non credo quanta voce potesse avere mai Barreto è stato squalificato anche tra l'altro però qua adesso è vero che a Bari amiamo gli stranieri però come si dice amanti dei forestieri scusate va bene cioè voglio dire fatemi capire la differenza caputo che comunque ha pagato per una messa denuncia Barreto adesso lo vorrebbero rivedere a Bari magari sono stati lui e Almiron che si sono tirati indietro con falsi infortuni non sappiamo cosa è accaduto al Milano per intanto non è entrata in nessuna minestra giudiziaria giusto mentre Barreto chiedo conferma ho messo a denuncia ho messo a denuncia per quattro mesi è stato squalificato va bene grazie per il tuo intervento pausa pubblicitaria per di nuovo insieme insieme grazie a tutti grazie a tutti